Per molti ragazzi di oggi è solo un ciclomotore fuori moda, eppure il best seller della piaggio si trova ancora in molti garage d'Europa. Parliamo del Ciao, prodotto per ben 40 anni in 3 milioni e mezzo di esemplari. Certo, solo sentir parlare della sua miscela a benzina e olio basterebbe a rottamarlo, invece c'è una soluzione per riportarlo pulito sulle nostre strade. L'azienda Umbra Italia, una start-up, ha ideato un kit da montare sul Ciao per trasformarlo in una bici a pedalata assistita, con motore da 250 Watt e velocità massima di 25 km orari, sostituendo il motore a benzina senza stravolgerne la fisionomia. Per come è concepito il Ciao, rimuovere il termico avrebbe indebolito troppo il telaio e allora ecco le strutture di rinforzo interne e un retrotreno in alluminio aeronautico per poter agganciare il motore elettrico. E così, se per i teenager degli anni 70 il Ciao è stato il primo vero momento di libertà, oggi la sua riconversione può rappresentare il ritorno di un pezzo di giovinezza. Grazie a tutti.